meravigliose creature che non siete altro non siete altro che meravigliose creature ed io non mi stancherò mai di dirvelo e spero che voi non vi stanchiate mai di ascoltarlo oggi è lunedì 9 maggio 2022 lunedì per molti un giorno un po nefasto no non soltanto perché c'è il lavoro nel mezzo la scuola insomma abbiamo una memoria dei ricordi traumatici da questo punto di vista ma anche perché il lunedì fa riferimento alla luna e la luna sappiamo che è proprio riesce a smuovere le acque su questo pianeta figuriamoci se non riesce a smuovere le acque al nostro interno e le acque sappiamo che sono che sono il simbolo delle emozioni al nostro interno la luna la luna la luna il sole è sole e luna quante volte abbiamo visto questa dualità palesarsi in ogni modo ai nostri occhi prima di tutto ma poi l'essere umano da migliaia di anni rappresenta il sole e la luna come la manifestazione della dualità il loro e l'argento il giorno e la notte la luce e l'oscurità e noi siamo sul pianeta terra che è un punto di osservazione meraviglioso e spettacolare il migliore direi ma noi esseri umani cadiamo spesso in un grande fraintendimento un grandissimo fraintendimento una grande illusione cioè pensiamo che sia il sole a sorgere che sia il sole a tramontare mentre invece sappiamo benissimo perché è scientificamente provato che la terra gira su se stessa e gira intorno al sole che lì non è fermo il sole il sole viaggia nello spazio tutto viaggia nello spazio e noi questo sole che va sparato nello spazio giriamo intorno al sole creando così l'opportunità di fare ricreare sempre il giorno la notte giorno e notte giorno e notte però sempre in maniera diversa perché proprio ci muoviamo nello spazio il grande fraintendimento è il fatto proprio che noi diciamo domani sorgerà il sole e non diciamo che domani noi abitiamo un pianeta terra che gira su se stesso e che gira intorno al sole allora questo movimento dà la possibilità al sole di apparire e di scomparire sarebbe troppo troppo complicato e meno poetico no dell'alba del tramonto della luna dei quarti delle mezze lune sarebbe molto meno poetico però questa verità perché è una verità appurata ci dà la comprensione di non cadere in quell'illusione che ci fa giudicare le cose che ci capitano gli eventi che ci arrivano le persone che ci arrivano pensando che siano loro ad arrivare a noi e loro che girano intorno a noi siamo noi che giriamo intorno a loro attraverso cosa attraverso un'emanazione di vibrazioni vibrazioni interiori che fanno capo alle emozioni e queste emozioni attraggono emozioni simili noi siamo appena tornati da quattro giorni meravigliosi in Umbria con un gruppo che di cui io non posso veramente trovare parole perché non ci sono parole per esprimere il sentimento che abbiamo sentito proprio interno e siamo appena tornati torniamo in una realtà no in una realtà questi giorni sono stati bellissimi dove abbiamo proprio sentito quel tipo di miracolo vibrazionale un miracolo vibrazionale che è nato per merito e questo gli va dato atto per merito di una pandemenza che ha creato l'unione di cuori simili tra loro vibrazioni simili tra loro e sembrava di stare veramente in famiglia sembrava di stare con se stessi ecco sembrava di stare veramente con se stessi con la parte più profonda di noi è stato bellissimo questo fraintendimento è molto importante ogni tanto ricordarselo perché così non cadiamo nell'errore di giudicare gli altri gli eventi le cose che ci succedono che ci girano intorno ma ci riporta sempre alla nostra al nostro interno alla fonte alla causa primaria alla sorgente laddove nascono quelle frequenze che poi ci danno l'opportunità di far girare intorno a noi determinate situazioni e quando parliamo di superficialità parliamo di cose grossolane di materia perciò parliamo di lavoro di problemi legati al vivere comune in questa società molto frenetica e superficiale già di per sé logicamente vibrando ad una certa frequenza sostando in una certa frequenza come abbiamo già potuto vedere in questi ultimi mesi abbiamo dato l'opportunità a noi di di farci girare intorno situazioni eventi persone lavori diversi persone diverse e questo è stato molto importante perché è stata una prova una grande prova per la nostra parte superficiale quella parte che noi dobbiamo continuare a convincere dobbiamo continuare a dargli modo di vedere con i propri occhi perché la nostra parte superficiale se non vede non crede e allora lavorare su questi aspetti vuol dire rimettere insieme la nostra parte superficiale la nostra parte profonda di realineare la nostra personalità facendola diventare integrata e allora e allora succede qualcosa succede qualcosa voi che state vedendo questo video la maggior parte di voi ha già provato quello che è successo in questi ultimi mesi ed è un qualcosa di normale era già partita prima sta situazione noi ci siamo allontanati da persone che bene o male da cui volevamo già allontanarci ci siamo allontanati da lavori da cui già volevamo allontanarci è stato un movimento che non è scaturito da una causa successa per via di una pandemenza la pandemenza la pandemenza è stato proprio il momento clou dove ci siamo accorti di questa meravigliosa legge di attrazione per questo dico alle persone che sono ancora lì a sapere se le cose che girano intorno derivano da una situazione esteriore mi raccomando mi raccomando andate dentro di voi andate dentro di voi è lì la causa la causa è sempre lì poi succedono cose che sono legate tra loro in questo meraviglioso mondo complicato dove la dualità si manifesta in miliardi di situazioni e poi ci sono anche memorie ancestrali di cause ed effetti che si sono manifestati non soltanto in questa vita ma anche magari nella vita precedente per questo non sono le cose che girano intorno a noi siamo noi che giriamo intorno alle cose agli eventi e alle persone e soltanto noi possiamo decidere di far girare e orbitare intorno alla nostra vita situazioni diverse come andando a lavorare sulle emozioni e questo giorno lunare il lunedì la luna come mai no? la luna è importante da questo punto di vista io vi consiglio sempre di non osservare la luna piena quando arriva la luna piena non la guardate non la guardate non la guardate non la guardate non è un caso che alcuni si trasformano in lupi malnari non la guardate eh? dobbiamo sempre rivolgerci al sole da questo punto di vista la luna è un aspetto fondamentale, importante fa parte di quella parte profonda che ha bisogno di essere esperita al proprio interno però la luna stessa è di una potenza allucinante una potenza energetica allucinante soprattutto quando c'è quella piena che insomma riflette proprio sulla terra lì su di noi nei nostri corpi interiori una grande energia no? il plenilunio è proprio il passaggio dell'energia dei grandi maestri delle grandi entità che si manifestano quando c'è questa possibilità di fare riflettere la luce anche di notte però insomma il pippone servito oggi su questo piatto no? proprio un piatto dedicato personalizzato su questo piatto è scritto pippone sul bordo il pippone di oggi è dedicato proprio a questa questa grande illusione, grande fraintendimento che può aiutare molte persone in questo momento difficile perché continua il momento difficile della pandemianza, siamo passati al conflitto ed è una cosa fra virgolette naturale e ciclica ricordiamoci che cento anni fa, duecento anni fa c'è stata un'altra pandemia cento anni fa un'altra pandemia e poi una guerra l'essere umano ancora deve fare un bel po' di strada ma tanta strada intanto però cominciamo a farla noi questa strada una strada a ritroso una strada che ci riporta alla sorgente e alla fonte e questa strada comincia a diventare anche se andiamo avanti ma torniamo indietro nel momento in cui finiamo il nostro mezzo giro del cerchio alla fine di questo mezzo giro di cerchio diventiamo degli individui che possono vedere la fonte e la sorgente cioè da dove siamo arrivati, cioè l'uno e allora il ritorno alla sorgente vuol dire ripercorrere la metà strada con questa consapevolezza una consapevolezza che si è andata a fissare al nostro interno sapendo e non cadendo in un altro fraintendimento in un'altra illusione che tutto è uno per forza anche se magari il nostro corpo superficiale non lo può vedere che tutto è uno noi siamo frammentati come può il nostro corpo superficiale dire che tutto è uno cominciamo a dirgli che tutto è due cominciamo a dirgli che tutto è due in modo che questa parte superficiale possa osservare la dualità possa osservare questo miracolo della dualità se noi diciamo fin dall'inizio che tutto è uno ma dov'è tutto è uno? dov'è uno? dov'è l'uno? siamo tutti frammentati viviamo un periodo di estrema frammentazione e ancora non sappiamo se siamo arrivati all'apice di questa frammentazione vedete che si fa un sacco di fatica a unirci anche quelle persone che sono che hanno avuto questo risveglio che nella maggior parte di loro è un risveglio psichico continuano a chiamarlo risveglio spirituale ma un altro fraintendimento un altro errore un'altra illusione il risveglio psichico è diverso da quello spirituale ma di questo poi ne parliamo con un altro pippone vi auguro una splendida serata un caro saluto agli amici di facebook, di telegram e di youtube e come sempre forza, amore, coraggio e volontà mi raccomando, il sole non sorge il sole non sorge, siamo noi che abitiamo una terra che gira su se stessa e che gira intorno al sole e che dà la possibilità al sole di apparire o di scomparire